Ciao a tutti, cari spettatori, e benvenuti nel mio canale. Sono entusiasta di vedervi qui oggi per condividere con voi un nuovo e emozionante contenuto. Prima di iniziare, però, vi chiedo un piccolo favore, se non lo avete già fatto, per favore, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. Iscrivendovi, state sostenendo attivamente il mio lavoro e mi incoraggiate a creare più contenuti che spero vi piaceranno. Oggi, nel video che vi sto per presentare, ci immergeremo in un'avventura incredibile. Sarà un viaggio emozionante, pieno di sorprese e divertimento. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo subito. Siete pronti? Allora, via! In un antico villaggio giapponese, al crepuscolo di una calda giornata estiva, due amici, Hiroshi e Takeshi, si ritrovarono seduti sulla riva di un tranquillo fiume. Mentre guardavano l'acqua scorrere lentamente, Takeshi disse con un sospiro profondo, Hiroshi, ho speso molto tempo a rimuginare sul passato. Ho fatto scelte che ora mi tormentano. Mi chiedo se potrei mai liberarmi da questo peso. Hiroshi, un uomo anziano di grande saggezza, sorrise e disse, Takeshi, il passato è una lanterna sulla schiena che illumina solo il cammino già percorso. Non puoi cambiarlo, ma puoi imparare da esso. Takeshi annui, ma sembrava ancora preoccupato. Ma come faccio a liberarmi dalla sensazione di rimpianto? Vorrei poter tornare indietro e fare diversamente. Hiroshi chiuse gli occhi per un momento, poi li riaprì con serenità. Takeshi, immagina il passato come il fiume di fronte a noi. Scorre costantemente, e non puoi fermarlo. Ma puoi scegliere cosa fare adesso, in questo momento. Takeshi si mise a riflettere su quelle parole. Poi, con un sorriso malinconico, disse, Hiroshi, hai ragione. Non posso cambiare il passato, ma posso cambiare il mio atteggiamento verso di esso. Forse dovrei imparare a lasciarlo andare. Hiroshi annui con approvazione. È una scelta saggia, Takeshi. Lascia andare il passato e permetti al presente di essere la tua lanterna. Solo allora potrai vedere chiaramente il cammino davanti a te. I due amici rimasero in silenzio per un momento, osservando il fiume che scorreva tranquillamente. Avevano imparato una lezione preziosa quella sera, una lezione che avrebbe illuminato il loro cammino in avanti, lungo le strade della vita. Le stelle cominciarono a puntellare il cielo notturno mentre Hiroshi e Takeshi si godevano la quiete del momento. Takeshi si rivolse nuovamente a Hiroshi con una domanda. Hiroshi, hai mai avuto un momento nel tuo passato che vorresti poter cambiare? Hiroshi guardò il fiume, i ricordi danzanti nella sua mente come foglie alla deriva sull'acqua. Certo, Takeshi. Ho avuto i miei momenti di rimpianto, come tutti. Ma ho imparato che il passato è solo un maestro che ci insegna le lezioni necessarie per il futuro. Senza quei momenti, non saremmo chi siamo ora. Takeshi annui, capendo meglio l'importanza di accettare il proprio passato. Hai ragione, Hiroshi. Forse dovrei guardare il mio passato non come un peso, ma come un insegnante. Hiroshi sorrise e disse, esattamente, Takeshi. Ogni scelta che facciamo, anche se sembra sbagliata, ci porta più vicini alla saggezza. E ora, mentre guardiamo il fiume, ricordati che il presente è il nostro tesoro più grande. Dobbiamo viverlo pienamente, senza rimpianti. Mentre il fiume continuava a scorrere tranquillo di fronte a loro e le stelle risplendevano nel cielo notturno, Hiroshi e Takeshi sapevano che avevano appreso una lezione preziosa. Accettare il passato e abbracciare il presente li avrebbe guidati lungo il cammino della vita con serenità e saggezza. Con un cenno di saluto alla luna che si levava sopra di loro, i due amici si alzarono e si allontanarono dalla riva del fiume, pronti ad affrontare il futuro con cuori leggeri e menti aperte. Il passato poteva essere una lanterna, ma il presente era la loro guida luminosa, pronta a illuminare il loro cammino. E con questo, siamo giunti alla conclusione di questo affascinante viaggio insieme. Spero davvero che abbiate apprezzato il contenuto di oggi e che vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a me crearlo per voi. Prima di concludere, vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. È il modo migliore per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti e per sostenere il canale in modo attivo. E, naturalmente, non dimenticatevi di lasciare un grande mi piace se questo video vi è piaciuto. I vostri feedback positivi sono la mia lanterna luminosa nel cammino della creazione di contenuti. Ricordate sempre, il passato è una lanterna che illumina solo il cammino già percorso, ma il futuro è pieno di promesse e nuove avventure. Continueremo a esplorarlo insieme, e non vedo l'ora di condividere ancora tanti momenti speciali con voi. Grazie mille per essere qui e per il vostro sostegno costante. Ci vediamo nel prossimo video.